Ottava edizione del Festival Shortini, Festival Internazionale del Cortometraggio, stiamo qui con il Castello Svevo alle spalle. Che cosa possiamo dire a Shortini? Un augurio grandissimo affinché questa edizione sia la migliore fino adesso e la peggiore da qui in avanti, quelle successive che possano essere migliori di queste. Che siano un esempio di come anche da una situazione catastrofica come quella di Augusta si possono fare le cose se c'è gente che ha voglia di farle. Quindi un abbraccio a tutti e un augurio di grandissimo successo a Shortini.